si salve da endony conga stiamo facendo un terzo video da mettere su youtube però dovete avere pazienza perché fatta la neve naturalmente di notte purtroppo questo devo dire la verità è l'ultimo video che faccio su youtube e vi faccio vedere una cosa un poco straordinaria sempre se endony conga si dà una mossa a farla l'acqua ha creato delle stalattiti come potete vedere delle stalattiti ve le faccio vedere eccole queste sono un eclissi di stalattiti e grazie scusami vi sto facendo vedere le stalattiti la pianta che guardate ha fatto delle stalattiti sulla pianta ragazzi io cosa dirvi questa è la terza clip che stiamo girando sulla neve come potete vedere il sole se n'è andato la neve si vede molto molto meglio quindi stiamo girando il video in occasione che si possa girare bene guardate le vallate di neve che si sono sciolte il terzo video non mostra niente di bello anzi se ci viene fatta andiamo ad esplorare un bolla vallata di neve come potete vedere che fortunatamente con le scarpe sto cercando di farvela vedere guardate sembra la neve di hugo 3 quando si scioglie e poi rimane ghiacciato qua qua visto che sono cresciute le piante la neve non tanto ci ha colto quindi vi dico sinceramente il video che stiamo facendo lo stiamo facendo su questa pagliata di neve che è una cosa che la vedete una volta ogni tanto non la vedete sempre quindi scusate io sto intervistando infatti sei riuscito a vedere il cielo è tutto coperto il sole se n'è andato e questa è la neve che ha fatta quest'anno le valli imbiancate sì 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 sono valli imbiancate sì ma però dovete sapere che per ogni video c'è una sua scelta motoria infatti bella puttana che fosso questo sì che è un fosso ragazzi questa è neve se non riuscite a vederla vedete ve la sto facendo vedere da vicino grandimento totale la neve che ha fatto ha fatto molto bella però di solito quando si girano questi clip video si potrebbe non pensare a che cosa darebbe fastidio infatti il video girato da me porta sempre a una buona risoluzione è un buon registramento di clip come potete vedere l'ultimo video registrato e le piante cioè i broccoli che si sono sfioriti e sono rimasti ingiampati nella neve ragazzi io non vi posso dire più niente vi saluto faccio grande saluto infatti come potete vedere è notte e anche il cosa del ragno dove stava gerardo musella cosa del ragno scusate e purtroppo devo finì il video e lo finisco qui lo finisco ragazzi salve e scusate per la nuova intervista sulla neve stiamo facendo l'ultimo video fatto girato sulla neve dove per la prima volta vi farò vedere dell'intervista della neve oscura scura dell'intervista su della neve di buia di notte e ve la faccio vedere ragazzi facciamo il video il video è l'ultimo video fatto da indoni conga è quello più fantastico dove per la prima volta mi permetto di esplorare altre zone con la neve naturalmente buio perché non si vede niente e scusate questa è l'intervista non vi posso dire di niente non vi posso mentire sto facendo solo il video infatti la luna la vedete ma neggia la miseria neggia la miseria date poco come bucava nuoriccia la neve purtroppo siamo in una zona scura e non si vede purtroppo la neve non si vede non si vede perché notte il video lo potevamo fare molto più prima infatti stiamo facendo il video sulla neve questa ultimo video fatto sulla neve guardate qua sembra un eclissi di una duna di un deserto di una duna di un deserto per la neve e come sta fatta ragazzi e io vi devo dire una cosa adesso facciamo la nostra spettacolare entrata sulla neve dove andiamo più o meno dove andiamo nella zona più scura della neve e queste scure perché notte vedi non è più giorno e notte però se ci accettiamo qua vediamo ancora qualcosa ragazzi e io non mi interessa devo andare in mezzo alla strada a fare il video infatti come potete vedere ancora il cielo è sì belle il cielo con quel poco di neve che ha fatto è la tempesta se riuscito a vederlo fa l'effetto boreale con la neve infatti questo video è estremamente fantastico io lo giro lo faccio vedere infatti la sta sdromontando il sole sta sorgendo la luna e il fantastica luce luce che fa il raggio di luce che spacca la neve però facciamo un text tatuaggio text tatuaggio della neve scusate ho fatto una piccola cazzata ragazzi e ragazzi è notte il video con la neve e io vi saluto ci vediamo da endo di conga alla prossima ciao che la fortuna del video possa assistere alla neve ciao ci vediamo ciao 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 ciao